L'ottoressa Di Stefano torna a Ottobre Rosa, torna il mese della prevenzione dedicato alla donna. Che tipo di controlli è possibile eseguire a Termoli alla Fondazione Giovanni Paolo II? Per il mese appunto Rosa, mese della prevenzione sinologica, la Fondazione si è impegnata in 5 giornate qui a Termoli in cui il nostro poliambulatorio sarà aperto alle donne che potranno sottoporsi ad una visita sinologica o un'ecografia mammaria con una raccolta dei dati anamnestici per cercare di capire anche in che fascia di rischio rientrano le pazienti che noi vedremo in questi giorni e quindi per proporre loro poi l'iter e i follow-up nel tempo i più adeguati possibile. Qual è la casistica in Molise relativa a queste malattie e quanto è importante intervenire in tempo? Nei tumori al seno sicuramente la prevenzione è molto importante, la prevenzione è proprio il caso di dire è vita, perché? Perché grazie agli screening è possibile ridurre e se ridotta nel tempo la mortalità per tumore della mammella che ancora oggi è la prima causa di morte nelle donne per tumori. Abbiamo assistito a una riduzione della mortalità e a un aumento dell'incidenza, questo che vuol dire che molto probabilmente abbiamo un'incidenza maggiore perché le donne si sottopongono maggiormente a uno screening e a una prevenzione senologica e altra cosa, oggi è possibile anche parlare di una riduzione di mortalità grazie alle nuove terapie farmacologiche che abbiamo appunto per curare il tumore della mammella e in alcuni casi possiamo anche permetterci di dire di guarire le pazienti. Quali consigli invece si sente di dare a chi deve eseguire questo tipo di visite? Sicuramente nelle donne a partire dai 40 anni devono sottoporsi annualmente a un'ecografia mammaria ed una mammografia. Poi diverso sicuramente il percorso per le donne che hanno una familiarità o un rischio eredo familiare. In queste donne noi anche già a partire dai 24 anni consigliamo di sottoporsi a un'ecografia mammaria e nelle donne che non presentano familiarità dai 26 anni in su è possibile seguire un'ecografia mammaria annuale se non ci sono problematiche riscontrate all'esame. Che tipo di appello infine possiamo rivolgere in occasione di Ottobre Rosa? Io vorrei dire alle donne che la prevenzione soprattutto nel campo senologico è molto importante. Capisco che viviamo in una società in cui si va soltanto di fretta e si corre continuamente ma pensare anche alla propria salute perché ovviamente la prevenzione è vita sicuramente fondamentale e approfittare di queste campagne sicuramente è lecito.